Si sarebbe vantato sul profilo TikTok di essere riuscito a ottenere gli arresti domiciliari nonostante la sua posizione delicata nell'ambito di una presunta estorsione e danni di un imprenditore agricolo di Palazzolo. Il video è stato però intercettato dai carabinieri e trasmesso alla procura retusea che ha subito emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Protagonista dell'episodio è il netino Carmelo Cannata, 51 anni, il quale era stato arrestato insieme con il fratello Davide e con il nipote Salvatore due settimane fa. I tre, come si ricorderà, sono comparsi innanzi al GIP del Tribunale che aveva loro concesso il beneficio degli arresti domiciliari. Di quel beneficio però ne ha goduto per pochi giorni. Nonostante le prescrizioni imposte gli dalla giudice di non comunicare con persone diverse dai suoi vocati e dai parenti conviventi, l'uomo non ha resistito alla tentazione di usare il social per rivolgere pite di sgradevole ai carabinieri subito dopo l'uscita dal Tribunale di Siracusa. Poche ore più tardi lo stesso indagato ha postato su un noto socialista network alcune foto mentre consumava una cena con amici che non poteva frequentare trovandosi agli arresti domiciliari. Per sua sfortuna sul web oltre ai follower l'uomo ha tirato l'attenzione dei militari dell'arma del nucleo operativo di nuoto che hanno riferito l'accaduto all'autorità giudiziaria. Per le ripetute violazioni e le prescrizioni imposte su ordine di aggravamento emesso dalla procura retusea l'uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Cavadonna. Tutti gli indagati come si ricorderà si erano avvalsi la facoltà di non rispondere mentre il solo Davide Cannata ha rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice per le indagini preliminari con le quali ha spiegato che gli altri due congiunti sarebbero del tutto estranei alla vicenda e che lo avessero soltanto accompagnato all'appuntamento con l'imprenditore.